Settimana in alta lena sui mercati finanziari per il prolungarsi dei tempi sull'accordo sul debito USA tra il Presidente Biden e lo Speaker della Camera McCarthy, la Yellen guadagna ancora qualche giorno prima della deadline. NVIDIA vola grazie all'intelligenza artificiale, ma attenzione agli occhi della Cina su Taiwan, la Germania in recessione. Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra analisi sugli indici, se non l'avete ancora fatto vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale YouTube, sarete tempestivamente avvisati dei nuovi video che vi caricheremo e vi ringraziamo sin d'ora per il like che vorrete lasciarci per questa analisi. Settimana numero 21 del 2023, performance miste, come vedete andiamo dal meno 2,93 di piazza affari al più 3,58 del Nasdaq, in Europa siamo rimasti in rosso, in America si è stati sostanzialmente positivi, tranne il Dow Jones che perde circa l'1% e torna negativo per l'anno in corso. Mercati contrastati dopo la positività della scorsa ottava abbiamo detto, in quanto tornano ad addensarsi nubi sul teoricamente scontato accordo sul debito USA. La maggiore difficoltà che ostacola l'accordo tra il Presidente Biden e lo Speaker della Camera McCarthy risiede proprio nelle parole che quest'ultimo aveva detto a gennaio per farsi eleggere. Aveva infatti detto che avrebbe fatto di tutto per riportare la spesa ai livelli del 2022 e aveva accettato di modificare una delle regole della Camera affinché qualsiasi singolo membro potesse obbligare una votazione per farlo decadere da Speaker. Quindi la difficoltà di McCarthy è quella di trovare un accordo col Presidente Biden senza però mettersi in condizioni di venire defenestrato. Con le maggiori spese militari che ci sono state a favore dell'Ucraina, solo per dirne una, è ovvio che gli Stati Uniti non possono pensare di ridurre le spese per il proprio esercito andandolo quindi ad indebolire. Pertanto è ovvio che il debito debba essere alzato e si dovrà trovare una formula che permetta a tutti di salvare la faccia. La Yellen peraltro a fine settimana per cercare di ridurre la attenzione ha detto che dopo un'attenta verifica è probabile che la deadline non sarà il primo di giugno ma probabilmente il 5, giusto per dare un pochino più di tempo alle parti per far quadrare il cerchio prima che accada il peggio. In ogni caso il conto alla rovescia prima del default USA è ormai partito. Diciamo due parole sul colosso delle schede in grafiche Nvidia che giusto un paio di settimane fa aveva lanciato sul mercato una nuova scheda di fascia media e che non era stata assolutamente ben accolta sul mercato e che alcuni distributori avevano già cominciato a scontare dopo poche ore dal lancio ma non riscontravano né ordini né vendite. La trimestrale poi di Nvidia ha visto un calo del 13% dei ricavi ma la parola magica che ha portato il rialzo del 25% è stata intelligenza artificiale. Ormai tutto gira intorno a questa AI, l'avvento dei software di intelligenza artificiale si fa un gran parlare in questi ultimi tempi ad esempio di chat GPT per cui le schede grafiche su cui questi software girano sono prodotti di punta di Nvidia, segnaliamo le schede H100 e A100 che sono praticamente introvabili sul mercato e vengono vendute chi le ha le vende a dei prezzi decisamente fuori mercato e stanno peraltro vendendo modelli precedenti a prezzi superiori a quelli di lancio. Quindi questa situazione ha portato l'azienda a dire che questa affannosa ricerca di queste schede, questa necessità di queste schede di punta permetterà all'azienda una significativa crescita e prosperità nel medio termine. Naturalmente non è solo Nvidia che beneficerà di questo trend ma tutto il settore, ma quello che vogliamo assolutamente ricordare è che Nvidia così come altre importantissime aziende del settore come AMD, Qualcomm curano solo la progettazione ma non la costruzione dei loro chip, sono le cosiddette aziende fabless, chip che sono invece costruiti in prevalenza dalla TSMC di Taiwan e proprio l'isola che la Cina vuole riprendersi e che ancora ieri, notizia recente, la Cina ha mandato nello stretto che divide Taiwan dalla Cina una pattuglia di navi da guerra con a capo una nuova porta aerei. Con il secondo trimestre consecutivo di decrescita del PIL la Germania è entrata tecnicamente in recessione, l'elevata inflazione con relativo aumento dei costi ha portato ad una contrazione dei consumi, beh che l'inverno sia stato sostanzialmente vite ed abbia evitato carenze di gas che avrebbero potuto provocare ben più gravi i danni all'economia tedesca. Andiamo a vedere quindi i grafici, partiamo da quello di Piazza Affari, Piazza Affari è stato il peggior listino di settimana, ha perso il 2,93% per un saldo del 12,68 per l'anno, ha disegnato una candela di oltre 1300 punti di range, è vero che lunedì vi sono state oltre 60 aziende che hanno staccato il dividendo, ma è anche vero che poi se andiamo a vedere un grafico giornaliero, come potete vedere l'analisi della nostra pillola sull'indice di Milano, il crollo è stato più grosso e avvenuto nelle sedute di mercoledì prima e un ulteriore assestamento nella seduta di giovedì. Nel complesso però c'è da dire che Piazza Affari è riuscita a chiudere sopra i 26.700 punti, quindi sopra il supporto dei 26.680 e questo lo vediamo come un dato positivo, vediamo come dato positivo i volumi che sono stati decisamente sotto la media e comunque anche in leggero decremento rispetto alla scorsa ottava, quindi vendite sì ma non è stato un sell off e quindi nel complesso con l'ipotetico accordo che dovrebbe essere trovato visti anche i risultati delle sedute di venerdì su tutti i listini, quindi con nuovi rumors che insomma un accordo si stia trovando, quindi è probabile che sia stato solo uno scrollone dell'albero per far cascare qualche mano debole, il supporto attenuto, i volumi non sono stati elevati, quindi è ipotizzabile che Milano possa ripartire pertanto dalla tenuta del supporto dei 26.680 e chiaramente la prima resistenza di un certo rilievo sono i 27.500 punti. Un piccolo appunto sul PIL, detto che in Germania è stato il secondo trimestre consecutivo in calo per cui recessione tecnica, vi è stata una comunicazione sia da parte del Fondo Monetario Internazionale che è dal nostro Ministero del Tesoro e delle Finanze che hanno parlato di un PIL in crescita per l'Italia tra l'1.1 e l'1.3% per l'anno in corso. Andiamo a vedere la situazione del DAX che ha disegnato sostanzialmente una candela similare, DAX che proveniva da una settimana con il nuovo massimo storico, non è riuscito a dare seguito a tale allungo, le notizie appunto dello stallo nelle trattative chiaramente si è fatto sentire anche qui, ma anche qui come vedete la lunga spike che vi è stata si è andata a fermare sostanzialmente sul supporto dei 15.700 punti per poi rientrare all'interno e andare a chiudere alla soglia dei 16.000 punti che era stato un livello di resistenza. Pertanto anche qui se dovessero arrivare notizie positive come già trapelavano dalla seduta di venerdì è molto probabile che DAX torni sopra i 16.000 punti e possa tornare brevemente a registrare nuovi massimi storici. Anche DAX segnaliamo una contrazione dei volumi che rispetto alla scorsa settimana e anche il fatto che sono rimasti sotto la media. Passiamo adesso dall'altra parte dell'oceano, avevamo scritto settimana scorsa che vi era stato un record nel divario tra il Nasdaq e il Dow Jones, livelli di differenza che non si vedevano dagli anni 90. Eccoci qui con il grafico intanto del Dow Jones e questa settimana questo divario si è ulteriormente allargato. Il Dow Jones è stato l'unico listino a Wall Street a chiudere in rosso, peraltro è tornato abbiamo visto in negativo anche per l'anno, ha perso il supporto dei 33.266, è sceso, è vero abbiamo avuto una lunga lower shadow, non è riuscito a recuperare il supporto, ma è anche vero che non ha proseguito la discesa per puntare verso i 31.2.50. I volumi sono stati in leggero aumento, ma sostanzialmente in media, quindi vedremo se il recupero di venerdì che vi è stato sui vari listini porterà anche il Dow Jones a tornare all'interno di questa ampia fascia di resistenza, a questo punto 33.266, 33.650 e quindi i 34.000 punti. Servirebbe ovviamente un allungo sopra i 34.000 punti per riportare un po' di serenità sul listino del Dow Jones. Musica completamente diversa sul listino dei tecnologici del Nasdaq che come vedete ha registrato una candela spettacolare, d'altronde ha avuto un importante guadagno, abbiamo visto di oltre il 3%, apertura sostanzialmente in linea con la chiusura della scorsa ottava, dopodiché ha perso sia il supporto statico che il supporto dinamico, ma poi si è rifatto con gli interessi ed è andata a superare l'importante resistenza dei 14.000 punti ed è andata a chiudere in area di 14.298, quindi sostanzialmente in area 14.3 a pochissima distanza dai 14.384 della prossima resistenza e chiaramente il livello superiore 14.770. Il Nasdaq come vedete invece ha registrato volumi in aumento e si è portato sotto la media, quindi altro segnale positivo, vi è stato un incremento di valori accompagnato con volumi sopra la media, quindi vi è stata coralità di mercato ad accompagnare questo rialzo e quindi è molto probabile che nella prossima ottava più che rivedere un test dei 14.000 punti di supporto andremo a vedere un test di 14.384 e successivamente 14.770 di resistenza. Chiudiamo infine la nostra analisi con il SP500, SP500 che nel suo complesso non ha disegnato una candela di per sé eclatante, sembra tutto sommato una candela tale quale a quella della scorsa settimana, la differenza però è che vi è un corpo molto piccolo e molto in alto, quindi come è sceso per tornare sui minimi della scorsa ottava? Praticamente sono arrivati i compratori, anche qui vedete i volumi sono stati superiori alla scorsa ottava e anche qui sono tornati in media anche un filino sopra e quindi vi è stato un nuovo avvicinamento alla resistenza dei 4.233 punti. È rimasto ancora aperto questo gap che vedete che si verrà chiuso su 14.219, è rimasto chiuso per una manciata di punti, siamo arrivati ai 4.212 punti quindi anche questa settimana siamo rimasti a pochissimi punti della chiusura del gap ma si è fatta un'ulteriore pressione sul livello di resistenza per cui anche qui è molto probabile che prossima settimana vedremo il breakout dei 4.230 che prevederà a questo punto l'automatica chiusura del gap e un probabile possibile allungo verso i 4.368 punti. Non ci resta pertanto che attendere la buona notizia che ci si augura possa arrivare già entro la giornata di domenica per dar modo ai listini europei di festeggiare già lunedì altrimenti probabilmente si dovrà attendere l'accordo nella giornata di lunedì e festeggiare insieme a Wall Street nella seduta di martedì. Con questo è tutto, vi ringraziamo per averci seguito e chiaramente vi rinnoviamo l'invito a metterci il like. Buona giornata a tutti!